Composizioni nuove e addirittura nuovissime. Prende il via sabato la prima edizione del Puccini Chamber Opera, il festival permanente dedicato all'opera contemporanea, che porta in scena artisti selezionati nel corso del Puccini International Opera Composition Course e dedicato alla conoscenza e approfondimento della scrittura lirica, con particolare riferimento alla grande tradizione italiana. Gli allievi hanno presentato un progetto che è stato sviluppato dal punto di vista compositivo e drammaturgico per giungere alla messa in scena al Teatro San Girolamo. L'appuntamento con l'opera contemporanea si rinnova dunque a partire con quattro pomeriggi alla scoperta dello stato dell'arte, della creatività musicale applicata al più italiano e al tempo stesso internazionale dei generi musicali. Finalmente a Lucca si può sperimentare nell'opera, si può rimanere legati al passato o guardare al futuro e finalmente dopo i corsi estivi che facciamo con Cluster, insieme al Teatro del Giglio che ci ha supportato in questa operazione, la Fondazione Banca del Monte, nasce il Puccini Ciamber Opera Festival. Nasce un festival che dà l'opportunità ai compositori che studiano d'estate di mettersi in relazione con la macchina scenica, di costruire un percorso che possa funzionare dal punto di vista pratico, perché scrivere sulla carta è bellissimo, ma se non vedi e non senti soprattutto quello che scrivi non funziona l'opera. Quindi grazie a tutti questi partner e gli amici enormi che ci seguono, la Fondazione Puccini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Club Unesco di Lucca, non saprei neanche elencarli quanti sono, finalmente possiamo provare questo esperimento che sono sicuro funzionerà con cinque giornate, quattro in relazione al Teatro del Giglio, una in relazione al Festival di Lucca Classica, che ci fa partecipare all'interno del loro festival con il nostro festival. Quindi anche le collaborazioni, come dicevo, sono tantissime, sono importanti e aiutano a sostenere l'operazione.